Per almeno un quarto passo a Claudio, così siamo in grado di sentire tutti quanti le nostre prospettive che secondo me possono essere molto facilmente complementari, cioè ognuno ha accentuato un aspetto, ritengo che vada fatta chiarezza su alcuni presupposti, però ci sono delle cose interessanti che vengono fuori da ognuno delle prospettive, o almeno io l'ho apprezzato tantissimo, ho imparato tanto. Io vi dico il mio piccolo versante, il mio versante sociologico tra giuridico, economico ma soprattutto sociologico del tema della moneta, della sovranità monetaria e del debito e di qual è la soluzione tecnica perché si deve indiziare un certo tipo di diagnosi del problema e poi bisogna suggerire anche una soluzione. Nei lunghi anni in cui mi sono occupato di questi temi ho pensato alla diagnosi e anche alla soluzione. Quando avrò finito ognuno valuterà se è accettabile o se non lo è. Allora si parte da un presupposto elementare, si è detto la funzione della moneta, la proprietà della moneta, diciamo veloci, la funzione va bene, è quello di un elemento di scambio, a volte aveva anche un valore intrinso, poi misura il valore o lo crea artificialmente il valore, va bene, tutto questo funziona. In ogni caso, ad inizio, potrebbe essere costituito dal loro, potrebbe essere costituito dalla conchiglia, dalle mogli, dai cammelli, voglio dire, il bene materiale che sottende al concetto di moneta è indescambiabile, quindi è fondamentalmente un prodotto immateriale mentale, prodotto dalla conoscenza. E ho fatto un passavanto incredibile nell'arrivare a questo, perché? Che nel momento in cui diciamo che è un fatto della mente, adesso vi dirò i tuoi passaggi e arrivo subito a una conclusione importante, sempre per guadagnare tempo, è sempre un fatto della mente. Chi è che c'è la mente? I soggetti concreti, si è detto più volte, anche a Torino, mi è piaciuto molto, ho sentito tutti i colleghi, che dicono che bisogna pensare, non solo all'aspetto calcolistico, computeristico, meccanicistico, ma bisogna pensare, l'uomo come origi, mezzo e fine, perché se arrivassimo a concludere che tutti i nostri disconti, diritti, economica, politica, tecnologica, sono fatti contro l'uomo, io non ne ho bisogno e ci rinuncio, anzi potrei anche distruggere. Se invece sono fatti per me, e qui è stato accennato, appunto, dice ma insomma l'economia alla fine, la casa, il vantaggio di casa, ci abbiamo nel meridione, nella magna Grecia, che siamo noi, che ci appreggio il difetto, un certo, la prima carta di economia politica in Europa, si chiama Antonio Genovese, il suo successore Troiano D'Azzi di Acre, dove sono nato, vedete che gli interessi incominciano a diventare molto prossimi alla mia teoria del localismo, che ha detto che la finalità dello sviluppo e l'economia dell'Ute è la pubblica felicità, e la parola felicità è nata allora, traduciamolo, ho sentito molto bene qui prima, la felicità è la misura degli indicatori del welfare, io sono presente in un corso di laurea di politica e management del welfare, quindi pensate, com'è facile per me arrivare a una conclusione che adesso vi dirò, quindi, da un lato c'è un mondo della produzione di beni e servizi, poi c'è questa ipernota, la difficoltà del baratto, perché io mi dovrei portare il mio boccellino che è interessante per quelli che abitano a 100 km, che a mia volta vorrei l'agnellino a 100 km, devo attraversare il percorso, quello deve arrivare un casino. Allora, per semplificare, si è ritenuto convenzionalmente, quindi le due caratteristiche che mi servono sono, la natura mentale del valore monetario e la natura convenzionale, perché? Perché già nel dire, io ti do il mio maialino, a forza mangiare i carri maiali, mi sono ammorbato, mi interessa mangiare la tua pecorella, e lo dici, io con tante pecore, che sono ammorbato dei costatelli, vorrei provare un po' le maiali, chiamatele saturazione biologica, però, o principi di varietà biologica, però quando vanno a incontrarsi e dicono, io te lo do il maialino e tu me lo dà la pecorella, ma quante pecore vale il maiale e quanti maiali vale la pecorella, adesso avete capito, il valore d'uso e di scambio contemporaneamente nasce già nella transazione di bene e servizi, quando finalmente, bene o male, in rapporto a 10.000 fattori che vi tralasci, la scarsità, l'utilità residuale, la marginalità, voi ci date 10.000 teorie di ingrazione del valore, quando si arriva più o meno a un accordo a fonte contingente, provvisorio, entro cui c'è anche la forza della induzione psicologica, cioè che mi piace, chi è che fa il supermercato, fa il controllo economico a parità di valori intrinsechi della mezzo, che costa di meno, un entro e semplice quello che gli piace, allora questa considerazione, prendo quello che mi piace, è una componente discrezionale arbitraria, insomma come Dio vuole, finalmente io ti do per ogni maiale due pecorelle, questo è quasi un punto d'approdo del baratto che ha determinato uno schema di valori, a questo punto dice, senti, noi facciamo così, su un foglietto di carta, scriviamo due pecorelle, sulla un qual, una volta che io stabilito due pecorelle sono, se l'ho messo un foglio di carta e te lo affido e poi ti dico, guarda che quando tu ti presenterai là lo puoi ritirare, cosa succede? Che questo valore mentale, convenzionale, quindi non è che crei il valore, misuri il valore, c'entra niente, è semplicemente una convenzione di corrispondenza del valore già attribuito e quando fossimo una civiltà superiore e il valore è solo la quantità di ora lavoro, allora arriveremo alla misura migliore, ma questo fa parte di un altro discorso, per il momento è discrezionale, quando io gioco i foglietti di carta e finalmente ci prendo un corrispettivo, cosa succede? Che nella condizione di accettazione, cosa c'è? La fiducia, cioè non solo il contenuto simbolico mentale, ma anche la condizione dell'aspettativa di accettazione, perché se io ti do un foglio di carta, che tu come dici bene, il carissimo persante, tra l'altro oggi è una gioia diventata di amici cari, ma dici tu che ti mangi la carta? Dici guarda che il delinquente mi lascia la carta, poi quando vado io mi faccio 800 km, sono per onde, sono per onde, ho dato il mio maiale, il mondo sono le due pecore, non te le do, no, perché quando mai l'hai scritto tu, l'hai classificato, quando mai questo l'hai contratto con un altro, non mi ci faccio provare più, io sono un zio, che cazzo ti conosce? Allora, no, no, è quella la verità, il sociologo di Antisch gioca sul paradosso della realtà più infima, quindi dove non può scappare, le grandi teorie si misurano sugli andamenti dei rapporti tra persone reali fatte di carne e dos e delle loro merite e de merite. A questo punto, dice chi è che me lo dice? La fiducia. Qual è la fiducia? È un'altra delle proprietà mentali, quindi la moneta assume valore, per quale valore gli danno i contraenti? I contraenti dei produttori donati per i servizi, che dicono che dietro c'è una copertura di un valore nominale che intrinsecamente vale poco e niente, gli rapporterà fiducia. E che è la fiducia? La fiducia che poi viene consacrata dal fatto che se come non ci possiamo fidare l'uno dell'altro, allora Nabucodonosor nella zecchia ci mette la sua faccia, ci mette la faccia, c'è la faccia mia col pizzetto degli assiri e te pare, garantisco io, più in là i vari garanti di ogni genere attivo, finalmente arriva uno che anche per scongiurare i falsari che l'equivalente del simbolo lo fanno anche meglio, dice no, no, sai che facciamo? Sto parlando, ho fatto tutti i saldi, sono arrivata oggi, sai che facciamo? Che ci penso io? Che io sono lo Stato, a nome tuo, prima lo Stato assolutista, poi lo Stato democratico, lo Stato comunista, socialista, tutto quello che ti fa, lo Stato, il quale dice, sai che faccio? Faccio la moneta a codi o legale, cioè mi garantisco io! E come lo faccio? Stato attendomi che il passaggio, sto arrivando a conclusione, ma è tutto qua, sai che faccio? io, dentro il mio stesso palazzo ai tempi degli eventi, in a buco al dono, che sto troppo sicurato, a piena terra, c'avevano il conio, capito? Non si fa fregare, quello dice, sai che faccio? Incarico un istituto specializzato, 1694, non mi manca più metallo, il fatto si chiama bank notes, note di banca, cioè carta e diostro e basta, ricordo di produzione prossima a zero, ha ricordato Piazzano, di produzione illimitata, la gente non crede in Dio, sti strozzi che vivono oggi, perché dicono dubito la creazione dal nulla, strozzi accettate la moneta che valga 500 euro per le persone, allora, quindi è un meccanismo di creazione dal nulla, quindi costo di produzione prossima a zero, potere d'acquisto, quello che ci ho scritto nella convenzione, in cui la gente che è produttore di fede e servizi reali, accetta per fiducia lo scambio di una costruzione mentale con fatti reali, cioè quello che si mangia. Scusa un po', chi è che gli ha dato anche la garanzia di fiducia? E' lo Stato, e lo Stato è il nome di chi? Scusa un po' la fiducia, di chi è? Questa proprietà che riempie di valore questo simbolo puramente mentale, si parla della civiltà di valore immateriale, la gente pensa semplicemente alla conoscenza di come si fa di scrivere il bus o di come si deve fare, no, perché i valori materiali, oggi la gente sta a pensare la bellezza del Davide di Donatello, un valore immateriale per eccellenza, che da sempre, essendo immateriale, ha prodotto una realtà materialissima, il file denaro, lo sterco del di valore immateriale, si chiama moneta, la quale, state attenti, perché il passaggio è fondamentale, nel momento in cui lo Stato lo autorizza, come tipografia, state attenti questo rimbroglio, qua vedete, Eriforte dice, si accorge la gente, che cazzo c'è dietro, ci ammazza tutti in mezzo al giornale, perché? Perché lui invece di essere un bambier che produceva moneta senza produrre niente, doveva via pagare gli operai, fare il mercato, fa la macchina, trovare il metallo, quello che dice, io non produco da noi, io devo lavorare sul set, dopo di che, ma Kenzi, state attenti, che se non ce l'hai tu in mano, inutile che c'è il Parlamento delle Legge che non conti un caglio, e l'altro che finisce molto bene, state attenti, che si è affidata alla creazione di moneta bancaria, il falso diritto, che non è il proprietario, è un tipografo e basta, interscambiabile, sa qual è la conclusione, che quando domandi di chi è la proprietà della moneta alla televisione, prima di tutto vi risponde i cittadini, che lo accettano, nella loro simbologia sociologica, nelle loro capacità di riduzione, di dare a un pezzo di carta inutile valore reale, contro la prova, stampate quello che volete, mandatelo nell'isola di Robinson Crusoe, dice pulite solo il culo, allora in questo caso, no perché ci vuoi cari amici, la scienza e la traduzione in termini quotidiani di concetti difficili, se tu rimani nel difficile non sei uno scienziato, sei un dotto, che è uno di schienze tra le più grandi umanità, allora in questo caso, perché ti devi far capire dai tuoi figli, che è successo? Che nel tempo? Quello che ha detto, mi hanno incaricato di stampare, ha detto che mi sono l'indipendenza dalla tua autorità politica, notare in democrazia quell'autorità politica, il ministro del tesoro e tutti noi, cioè autorizza la stampa della moneta colore regale a nome del popolo italiano, chiaro? Quando esce è un simbolo, è la fisce, la quale ha valore solo perché noi l'accettiamo, perché è un valore sociologico, quindi Claudio dicevo la nazionalizzazione, lo è in partenza, solo nostro, e quindi se è proprietà nostra, che cosa fa questo tipografo? tipografo, se lo ho stampato io, e ma tu mi hai utilizzato, io te lo presto, io stampo il libro, vado al tipografo, no io scrivo il libro, vado a fare, professore, ma se te ne dico in realtà me la pagano, anzi tutti gli utili che ne nasceranno le vie, io ti massacro, ma aspetta, infatti cosa fa? Se tu gli dici chi è la proprietà della moneta e la termissione, quello ti dici, dato che contabilmente lo mette, lo addepita a gustare, c'è un padrone che ha detto e tu mi è finito pochi, per me lo stampi, diventa invece quello che la talla ritirà, si indebita, state attenti, è tutto un premassaggio, perché i grandi truffi mondiali nascono allo Stato Zero, dove la gente non ci va mai, perché comincia lo Stato, 8.635, dopo il studio ha cascato e tutte le conseguenze, non si domanda il Primum, da dove parte? Il Logos, la voce di Dile, quando è stato fatto il mondo? Allora, perché a me come è stato fatto il mondo? Sto finendo, tu che cosa fai? Gli dici, caro amico, tu non sei il proprietà, sei un tipografo, per cui, avendo lavorato con carta e indiostra, il cui costo di produzione è pari dopo un mese intero, a circa 500 euro, poi c'hai l'ammortizzamento dei macchinari, il pagamento di tutto, ma ti riempi. Tutto l'Università Teter di folli da 500 euro, io ti do 10.000 euro e te ne vai a fanculo, da adesso in poi, io riprendo ciò che è mio, a nome del popolo italiano, e distribuisco le fisce alla gente, perché, essendo proprietà della gente, a nome del suo ministro che ne autorizza il gendito legato, tutti gli utili, qual è il principio del diritto privato? E' facoltà del proprietario prestare, scusa tu, a me non puoi prestare, e sei il tipografo ingaricato. Ha detto bene il giornale, ha detto, non vieni, che sei la proprietà dell'euro, e ha detto, si stai pagando, c'è dei tipografi, ma che avete ammattito? Non è male nello Stato, e nei cittadini, i quali lo usano, e se non avessero fiducia, e non avessero bene i servizi di scambio, sarebbe carta al traccio, anzi, convenzionalmente, possono dire, caro di Poggi, te non so che fare, mo vai a Sant'Alta alla tipografia, e me faccio stai pagando, perché è la sovranità monetaria, che è un diritto inviolabile e fondamentale, ed è il cittadino, ed è l'unità locale. Altro che la moneta universale, che significa passi il padrone universale. Io sono fatto la sceneggione napoletana a raccontarlo, perché mi animo anche io, quando sono scoperto che mi facendo, mi sono io stesso impressionato da dire, ma veramente, sono due o tre cent'anni che succedono, lo storico del 3000, quando una superiore civiltà giuridica dirà che i banchi centrali vengono pagati come fabbriche, dei loro costi di produzione, e tutti gli utili sono nostri, cioè l'U3%, l'U4%, l'Utà sufficiale di sconto, la distribuzione bancaria, vedi che fa la banca città europea? Dite non dà un 0,50, a chi cazzo è andata in banca? Lui la dà un 0,50. Alla banca il DG se lo vuole e mi deve dare un 5%, perché lui la dà un 6. Forse non ci siamo i cambiamenti che stiamo a parlare. Allora, la conclusione è che la proprietà della moneta alla televisione del cittadino, che le delega la stampa allo Stato a valore legale, e i cui utili, passando dal tesoro dove viene depositato tutti quelli che stampano a banca centrali, fatto il circuito di tutte le transazioni finanziarie da cui vi interessa, perché è la facoltà del proprietario prestare, il proprietario siamo noi, quindi anche l'altro lato ha vittato, il sito è stato sul 2%, se qui se ti sconsacro e riconosce che mi fregasse per tutta la vita io ti dico da con il 2%, tu non hai niente, nessuna proprietà, la proprietà è solo nostra, e quando tu prendi gli utili dei dividendi bancari, quindi non le banche che sono soci della società per azione che è la banca centrale, il topografo sa fatto, controllore e controllato del leader che distribuisce le guadrine a cui sono i soldi nostri, ma che cazzo mi state combinando, lo storico del 3000 sa che c'era, erano 7 miliardi di abitanti, 7 miliardi di coci di cazzo che non valevano niente, ci sono fatti fregati le pibili, nonostante alcuni avvertimenti che venivano fuori là, allora, siccome noi siamo figli di Machiavelli, è l'insieme più feste di nessuno al mondo, noi siamo in grado di prendere l'eredità della cultura scientifica e politica che ci sta dietro, siamo d'accordo con Ford, il quale ce l'aveva con questo meccanismo, che lui è un produttore di beni reali, ha visto quelli che lo condizionano, come ce l'hanno gli imprenditori di beni reali, gli si dipende dalla moneta, ma chi si dice? Io nel mio comune incarico l'usente che c'è una provvista necessaria per il fabbisogno prodotto, mo la deve essere a 0,50, volete al momento pure al 0%, che non mi costa un cazzo, beh le può metto pure al 0,001, che cos'è il costo della moneta? E' la differenza del signor Anci, che si definisce sociologicamente, ho sentito la definizione, tutto è bellissima, ma so, ognuno è la propria disciplina, io non pretendo dire che ho più ragione degli anni, vi ho dato la mia versione della situazione sociologica a livello del minuto 0, e questo, che cioè i dividendi degli utili della FISH, che noi otteniamo delegandolo al tesoro, invece da rimetterci nel sacco oggi, state bene attenti, questo è elaborato il professor Scharren, non è che c'era scritto tanti libri, perché sono pensato, sono fatti i dividendi, allora che stanno a fare 56 milioni abitanti, facevano un calcolo di tutti gli utili derivanti dalle transazioni finanziarie, ci arriva un dividendo a Natale, attenta, tocca 460 euro di questo utile della divisione della FISH, che tu hai sostenuto, con la tua fiducia, con il tuo indelletto che la credenza simbola, cioè non dovete capire che se tutti i valori in testa, la nostra testa, tu devi pagare la mia testa, la mia immaginazione sociologica, che ha un valore incredibile, perché regge un sistema invisibile che mantiene l'economia reale, e paghi il mio cervello, scopo il cervello di tutti, non è che la fiducia è mia, la fiducia è mia, sua, tua, di tutti noi, perché una volta che tu l'ha accettato, tutti gli altri l'accettano, cioè mi paghi, in questo caso, proposto di Scharren, ho finito, invece di pagarmi il mio dividendo, che la proprietà della moneta è del cittadino, e ci vuole una grande riforma costituzionale, questi stanno a perdere tempo su tutti gli strussati, hanno perso la sovranità monetaria, non sono nulla e nessuna, legge, che cosa dice, Mackenzie, che è un grande liberale, guardate, i liberali hanno ragione in questo senso, come i massissi, perché i massissi ti dice, il grande regolo sfruttamento, i liberali ti dice a me, ma tocca la proprietà, scusi, la proprietà della moneta è mia, i quadri interi, perché tu, allora, in questo senso, dove è il punto di congiunzione, e io da liberale e societario, perché ho detto che la coscienza, dopo una rivoluzione della coscienza, la coscienza, mi devi pagare la fiducia con cui si legge il sistema, allora, in questo caso, invece di averlo come un dividendo, si può ottenere in un'altra maniera, tutti quegli utili, sapete quanti sono gli utili delle transazioni finanziarie, a me ne ho detto uno, è un grande professor di economia, che lavora alla Columbia, a Bruxelles, le conosce tutte qui, una sera c'è, eh, Dominique Salvadori, che fa club, consulente alla Federal Reserve, guarda il Charles e il tipo, in un garage, qui le statuette di tonne, riempio, perché, da come sta la situazione, siccome per ogni unità di valore sta ammattata una forchetta, questo vale un euro, quindi dovrebbe circolare un euro, sì, quando mi circolo, 40 euro, quando si accorgeva di questa bolla infinita, crolla tutto lo sistema, e per comprare un kill de pan, ci vuole direttamente un milione di euro, quindi se dovete di tonne, almeno per la sede di tonne, dice, io non sento male, fino a che non ti ammazzo il tuo ammazzo il tuo ammazzo, e mi ha detto quindi che esistono il 40 euro, e che gli utili delle transazioni finanziarie del vero mondiale, sommando tutti i debiti sovrani di tutti gli stati, se andassero ai cittadini, i quali, invece di riscuotere la mia proposta, dal tesoro ti autorizza a dare alle finanze, non ti diamo una lira di tasse, le tasse sono state già pagate, perché io ho rinunciato alla mia quota di diritti sovrani, stavolta c'è sovrano, che il cittadino è sovrano, non lo sta, e ti ho riempito le casse di quattrini, adesso fino all'ultima lira, tu dovrai passare dal ministero dei finanzi al ministero del welfare, e mi soccorrerai come assicurazione generale di tutti gli imprevisti della mia vita, fino a che non avrò il livello medio di reddito di tutta la popolazione della mia comunità. c'è svuotare totalmente, non le banche, le banche riescono a dare qualcosa, solo che lavorano come un impiegato per i mesi 500 euro e fanno i servizi, prendono l'1% per la mediazione, l'un 6,7% per i miei, perché le quali sono tutte le mie, ho autorizzato a batterle a nome mio, io lo reggo in piedi con la mia fiducia e con il mio valore convenzionale, non ho ritirato la mia quota di azionale e te l'ho data al ministero dei finanzii, ho già pagato le tasse, c'è l'accantonamento di riserva di garanzia per il welfare, cioè la previdenza integrale della mia vita, dalle scarpe alla casa, si dice in Svezia dalla cul alla tomba, e tutto quello che ci sta in mezzo. Grazie. Grazie.